buongiorno a angelo serlenga e che ha avuto la chance da giovane e negli anni in cui ha frequentato l'accademia di brera di incontrare molti artisti tra i quali lucio fontana ci puoi parlare di questa di questa tua di questa tua storia che abbiamo avuto l'occasione qualche volta di parlarne e mi ha interessato molto grazie e buongiorno a te ti ringrazio era un periodo in cui frequentando l'accademia si frequentava comunque quella diciamo quel ritrovo assolutamente che richiamava diciamo lo spirito di Montmartre che era il famoso bar giamaica dove si riunivano diciamo per dialogare per discutere universitari fuori corso artisti ladri c'era di tutto praticamente quella in quella dove si frequentava per 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 assistere ascoltare intervenire a volte in quei dialoghi che hanno fatto di quella parte di milano una un cenacolo diciamo pittorico e diciamo indescrivibile di di quel periodo e quindi lì poi dopo frequentando l'ho conosciuto tra gli altri anche piero mazzoni che tancredi parmigiani e tanti altri personaggi del mondo della cultura luca crippa che era un grande disegnatore roberto crippa gianni dove eccetera eccetera quindi saltuariamente poi venivano dei critici teatrali venivano dei critici teatrali venivano dei tenori dei tipo zechillo che era poi una molto vicino conosceva perfettamente bene l'opera di manzone quindi ehm ne acquistava diciamo delle opere quindi eccetera eccetera quindi degli acromo che lui aveva a studio tra una tra una diciamo una diciamo una era molto attaccato alla alla l'alcol come tutti i movè insomma per cui automaticamente ehm si viveva circa il mio il mio il mio essere vicino a questi personaggi mi mise nella condizione dato che poi ehm avendo fatto questa mostra collettiva cui avevo partecipato eh la galleria prisma di brandeschi eh diciamo la la conoscenza di ehm di lucio fontana che ehm venne a era una persona estremamente modesta quindi venne a vedere questa collettiva dove c'era appunto anche Piero Mazzoni e ehm mi 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 ripromessi di 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 conoscerlo meglio di avvicinarlo meglio perché affascinato da questo personaggio così elegante ehm educato era una persona era una un signore un nobile del del era più un personaggio dell'ottocento che dal novecento perché poi dopo si è dimostrato di una di una cultura dinamica che che lo portava poi a conoscere a vaffare quindi mhm lucio fontana che eh io ho frequentato per mhm diverse diverse volte nel nel suo studio andavamo con il gruppo Miriorama che peraltro abitava nella zona di di San Siro quindi nella zona di e conobbi Giovanni Anceschi era il figlio del critico Anceschi che lui faceva parte già del gruppo Miriorama con Gianni Colombo con Davide Boriani e con la Grazia Varisco e quindi erano assidui frequentatori frequentatori di Lucio Fontana e mi aggregai e e quindi spesso e volentieri andavamo a trovarlo nella nel suo studio in Corso Monforte uno studio bellissimo con le volte altissime con le porte ancora arcane molto enorme addirittura che circolavano alle all'ingresso erano una porta messa semi dissestate che quindi automatica e si entrava si vedeva questo bellissimo atelier dove c'era questi queste vetrate che davano a questo giardino sembrava un giardino un giardino magico e dove lui seduto a questa scrivania io a volte quando sono stato da solo parlava del più e del meno insomma peraltro tra tra una una le le i fondi gli li diciamo gli li dipingeva xiao qin che era questo cinese che si prestava a essere allievo diciamo con 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 il tempo che si predisponeva a fare quello che il maestro gli diceva dopodiché e alla nel 1961 ho fatto una mostra alla alla galleria monte napoleone in via monte napoleone sei a sito della serena perfetti che era una specie di anfitrione era una persona una persona strana molto arcana sembrava una 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 maga la maga circe una donna di molto di di conclamato fascino era la moglie di questo personaggio strano molto mi ricordo una volta che quando ero militare la mestre che faceva l'autostop perché arrivavo da maniago quindi dalla dalla parte del frioli alto e non mi dette il passaggio perché aveva paura ha paura di di compromettersi quindi io dovete aspettare un'altra cosa questo era il marito e lei era suggestionata e affascinata quindi probabilmente amante di umberto milani che che tra l'altro nella sua interpretazione di diciamo non da convivente ma da con partecipa a queste ma questo a questo idilio completamente ubriaco perché era ma umberto milani era un grandissimo scultore vinse il primo premio alla pianale di venezia e urlava diciamo creando scandalo nell'antistante la galleria che era un praticamente era una una catacomba si doveva scendere dei gradini era un sottoscala ma dove la serena perfetti aveva fatto ha creato come poi dopo come contemporaneamente la marta mazzotta creava un salotto diciamo vip le ha creato questo salotto culturale e dove partecipavano artisti tra i quali che era uno dei fondatori 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 di del del famoso manifesto sullo spazialismo insieme a iopoli insieme a lucio fontana che fece diciamo genere in quel periodo particolare per cui automaticamente ci si ritrova lì quando fece questa mostra e tra l'altro venne fontana e perché frequentava era molto amico della serena perfetti quindi della mia signorone la molle di questo architetto signoroni che andava per la maggiore in quel periodo che poi era un discreto un discreto pittore e mi fece mi mi elogiò naturalmente per sua per sua bontà perché una persona squisita una persona che era una persona assolutamente squisita nella 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 sua disponibilità a facilitare il percorso dei giovani eccetera eccetera perché si amava circondare dei giovani e conseguentemente a una collettiva che ho fatto mi mi acquistò per per darmi per darmi diciamo aiuto un'opera che peraltro io non non voglio i soldi nella mia dignità ma chiesi se potevo avere un suo ricordo e lui mi a studi poi mi regalò una buvar che era una quella carta assorbente che lui acquistava bene facevo questi famosi bucchi io poi per necessità in quanto non navigavo nel loro eccetera eccetera e purtroppo dovetti esitarla un mercante che mi detto poco e niente ma questo era in seguito in quanto evidentemente non avevo delle io tra l'altro nel periodo dell'accademia e ho fatto andavamo a mangiare insieme a un certo lami compagno di furti perché noi usavamo i quando si dipingeva in accademia il bianco che compravamo da calcaterra mai nere era un bianco non era un bianco di cardimio e quindi automaticamente i quadri dopo un mese un mese mezz'anni arrivano per cui noi noi diciamo fa facciamo dei piccoli furti d'accordo con il con il come si dice con il il bidello di dell'accademia e pigliavamo i bianco di cardimio della che lei poi se ne accorse si infuriò naturalmente poi finì tutto a risata taraluccio e vino il bianco di cardimio per cui automaticamente i nostri quadri poi apparivano il bianco non si deteriorava quindi e quindi automaticamente si frequentava questa questa diciamo questa galleria dove venivano spesso i figli della sarta bini che era una sarta in particolare insomma era una sarta che andava in auce in quel momento e andavamo di sera ogni tanto con fontana a cenare in questo ristorante macrobiotico che si chiamava la dolce sosta quindi nel quartiere di san babila dove c'era questa specie scalinata sopra o meno e che ci portava questa scala a chiocciola con il rischio di compromettere diciamo la di compromettere cadute eccetera e dove c'era tutto fuorché di macrobiotico quindi di vegetariano quindi vegetariano di macrobiotico e lì fontana ogni tanto raccontava degli aneidri tra i quali quando nel nel 47 fece il primo maruflage perché lui è stato uno dei primi a creare il maruflage che poi ha fatto capogrossi e tuombli eccetera eccetera e compione in seguito nel 47 e ci diceva che lui usava delle tele malsane quindi delle tele di bassissimo rango applicava questa carta e poi con mettevi metteva dell'anilina e dava dava diciamo questi 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 bucchi poi dopo l'ha reso famoso perché poi ha iniziato a fare con il 49 ha iniziato a fare delle tele 48 49 i primi esperimenti 49 ha iniziato a fare questi concetti spaziali che erano la diciamo la dinamica di una di un artista che è se non ci fosse stato fontana non avrebbero dovuto inventare un fontana perché ha trasformato totalmente la diciamo la la cultura la cultura che 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 alleggiava in quel momento in quel momento lui non era considerato se non come il pittore dei bus ma era quasi deriso non c'era una una cultura specifica che lo lo imponesse e quindi quello fu anche una delle tante ragioni per le quali io mi promessi di di studiarne più la diciamo la 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 l'atto divulgativo quindi l'atto l'atto acquisitivo del del oggettivo proprio dell dell'opera conseguentemente che poi dopo rovina vi vi racconto per cui lui trasforma è un perso un personaggio che esegue una un'astrazione è incredibile lui con la sua arte con con questi tagli e che con se conseguono poi dopo nel tempo e la la sua espressione artistica coinvolge tutta la influenza tutta l'arte povera influenza il concettuale da cui derivano poi tutti gli altri tra i quali anche un altro personaggio che conosco molto bene per per averlo divulgato che era pino pinelli che sono i nipotini di fontana nascono questa forma assoluta fontana non può essere imitato è come modigliani che cazzo cosa 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 imiti cosa puoi imitare modigliani modigliani non lo puoi imitare nasce finisce con sé lui studia botticelli con lo trasforma la differenza tra il pittore l'artista è che il pittore copia il pittore interpreta quello che vede l'artista crea io smissi di dipingere per un determinato periodo salvo l'attuale che poi ho smesso l'anno due anni fa a marveglia questi questi piccoli dipinti che ho fatto che archeologi urbane anche per omaggiare quello che sta dalla mia prima logica di diciamo di concetto quella dell'espressionismo astratto io ho amato febbrilmente proprio france klein e che con il suo bianco e nero ha messo a risalto tutto quello che la la persona non sa accettare con questa gestualità diciamo incredibilmente incisiva con questi questi tratti queste pennellate enorme che lui impone attraverso questi questi questo questa gestualità verticale orizzontale crea una drammaticità che in alcuni come nel caso mio porta a determinare certe determinate emozioni che poi peraltro io purtroppo dovuto tralasciare in quanto rendendomi conto di non poter esprimere su una tela su uno spazio bianco quello che interiormente riuscivo a percepire attraverso viaggi immaginari quindi sempre astrali e astratti smisi 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 perché non non era non era il caso di continuare e quindi poi mi diciamo mi impossi di essendomi anche sposato di di concretizzare quello che sarebbe stato poi dopo la mia primaria attività che mi ha portato a divulgare ulteriormente fontana essere uno dei degli artefici diciamo per per aver imposto la conoscenza questo grandissimo artista quindi fece uno studio previsionale mio cognato mi presto qui stiamo parlando nel 72 dei 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 soldi perché se no non avrei potuto fare con l'aiuto di guido perus il quale fu con me diciamo l'artefice di quello che fu un inizio acquisitivo di queste opere che erano state acquisite da gente molto più evoluta che tra i quali c'era thomas scheller c'era pierre lundolm c'era stadler c'era tutta questa gente che ne già concepiva concepiva un'arte diversa da quella che si andava in auge in italia che era diciamo chiaramente il figurativo c'era spadroneggiava guttuso minieco questa gente qua e c'era un mondo sotto bosco di gente che collezionava tra i culi sarti avvocati medici o meno si predisponevano a a seguire questo tipo di arte per cui fontana poi dopo grazie a determinata altre persone che chiaramente coinvolta anche dalla dal dal fatto che nel 72 noi quindi nel 73 fece questa mostra alla galleria medea in foro buona parte di pescali e fontana prese un grandissimo piede prese diciamo tutti prese la conoscenza di questa innovazione di questo fatto nuovo e divenne stato simbolo non c'era persona che non volesse acquisire un quadro di fontana i quadri fontana premetto a quell'epoca costavano poco e niente basta dire che un quadro che oggi vale milioni di euro si prendevano con poche migliaia di lire insomma io mi ricordo che avevo acquistato un quadro di fontana da lundolm un quadro bianco 55 per 65 pagandolo un milione di lire che poi dopo grazie a alla 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 molle di gioco pomodoro che aveva questo studio meno fece da garante all'undolm di noi di me di guido perus che aveva ereditato sostanze quindi aveva una disponibilità superiore alla mia e quindi abbiamo pescato abbiamo da questi nidi diciamo che avevano che avevano precorso l'acquisto di di fontana studio tra i quali per l'undolm Fabien Bulacchia a Parigi non solo a Gina il ruido dell'università a Parigi e Stadler non so Onash Shmela Thomas Keller la Malboro che com'è si si mise diciamo a seguire noi anche praticamente quello che era una una questione proprio da imporre poi a determinati collezionisti che ti cercavano in te quell'eloquio e la 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 vera ragione eh storica di quello che potesse essere questa 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 meteora che che era sopraggiunta improvvisamente nel nel mondo culturale del momento e quindi quindi questo è hai anche acquistato direttamente da Lucio Fontana o no? Perché questo aspetto non lo sapevo? No io Lucio Fontana non ho mai acquistato niente perché lui morì nel 68 io questa operazione l'ho fatta insieme a Perus ripetono nel 71 72 e quando mio cognato mi prestò dei soldi e si può acquistano tutti questi quadri di in 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 a Stoccolma di di Pier Rundolm erano quadri selezionatissimi bellissimi eccezionali non so quadri che oggi valgono l'ira di Dio e E noi, salvo il fatto che io poi ho continuato a trattare Fontana con l'aiuto di altra gente, tra i quali un personaggio simpaticissimo che poi divenne amico, un certo prospero Zuccotti di Soncino, la stessa terra dove nacque Piero Manzoni, che automaticamente mi dedica a Fontana, lui lasciò perdere un attimo e si dedicò più a acquisire quadri del pittore Renato Volpini, che poi peraltro, poi lui è diventato molto amico di Rotello, da considerare che in quel periodo c'era la prima, perché poi lui è morto nel 68, Manzoni, mi ricordo un piccolo flash che quando c'è stata una collettiva, dopo, molto dopo la mostra che fece, la prima mostra che fece sotto la grande giurisdizione di Pier Restanini, che era il Vatte del Nuovo Realismo, che era un movimento che si contrappose alla pop art americana, con Manzoni trovato per caso nell'inviabrera e andammo, diciamo, scivolando verso il teatro alla scala, la galleria Poliner che era gestita da un uomo che si fece una grande cultura, perché lui inizialmente era cameriere da Giannini, Giannino, e poi si fece una grandissima cultura, era molto amico di Restanini, eccetera, eccetera, quindi fece la mostra di Cristome, e fece per primo in Italia la mostra di Yves Klein, come per primo un personaggio che io ho conosciuto al Jamaica, che è Luca Scacchi Gracchi, era quello che aveva portato poi Bacon a conoscenza del collezionismo italiano, perché automaticamente… quindi c'erano questi pionieri che… e mi ricordo che io rimassi scosso al fatto che Piero Mazzone, di fronte a questo quadro, International Brooklyn, che era in vetrina insieme a un Gold, si mise a piangere, e mi rimassa impressa questa situazione, come mi rimassa impressa un'altra volta, quando nel Jamaica, barcollando Tancredi, mi chiesse se lo accompagnavo in stazione centrale, perché doveva prendere il treno per feltre, e io chiesi aiuto a un passante, che sapevo, era frequentatore del Jamaica, se mi dava una mano, perché pesava, e quindi siamo riusciti a fermare un taxi, e io avevo pochi risparmi, comunque li messi ben volentieri, perché automaticamente li accompagnavamo in stazione centrale, e gli ebbi a considerare questo rapporto epidermico, quindi con personaggi che allora insieme a… c'erano tanti personaggi, come c'era Sordini, c'era Vermi, c'era la Dada Maino, c'erano tanti personaggi, era un mondo, tant'è vero che una volta con grande meraviglia, diciamo, consideriamo la presenza di Julien Greco, quindi era un mondo particolare, un mondo molto strano, un mondo in cui ora attualmente le emozioni che ti crea, la nostalgia del momento, di quel momento, e ti fa crescere dentro interiormente. Quando nel buio della sera, nella tua stanzetta, dormi, prima di dormire, magari in un momento di riflessione, quindi di insonnia, pensi al passato, ti crea questa dolce tristezza del tempo che non c'è più, quindi aspettando in un momento drammatico, come può essere quello attuale, la speranza che si possa ricreare ancora un tessuto, diciamo, culturale che viene sottocuotato attualmente da una praticità che rende sterile quello che è la coscienza e quindi lo scopo, il senso, il senso di quello che è la vita di una persona che ama nell'intellettualità, è una luce che tende a essere compromessa. È una bellissima storia, una bellissima fiamma, io ti sto ascoltando come un romanzo. Alessandro? Ma io sostanzialmente sono un irrazionale, essendo un acquario, non ho una, anche perché francamente non sono abituato, come contrariamente a mia moglie Giulio, a essere intervistato o meno, perché non ho, sì quando c'è la presenza, tu l'hai notato anche a volte a casa, abbiamo dialogato in via Morona a Milano, e c'è una spontaneità diversa che non mi consone all'essere intervistato così, per cui vado di pala in frasca, devi scusarmi se non ho una continuità e una regola ben determinata. E' una bellissima fiamma, è una bellissima fiamma. In quel periodo nascevano tanti aneddoti, oltre alla storia del bianco di Cadmio, noi, io e due aneddoti, una che dicevamo bugie nella taverna, nella specie di ristorante taverna delle sorelle Pirovini, molto legate, diciamo, alla religione. E noi andavamo e approfittavamo di questi bellissimi maccheroni per la fame che avevamo in quel periodo, no? E quindi noi creavamo dei debiti che poi erano saldati con il lavaggio dei piatti per diversi giorni. E come un'altra cosa molto bella, che ricordo di quel periodo, nel periodo dell'Accademia, quando io e un altro, che poi è scomparso, non ho più avuto ragione di sapere che conseguenze avesse nella… non ci siamo mai più incontrati. Quando una giornata di grande nevicata, io avevo preso un… la mia madre mi regalò una 500 di terza mano e io ogni 15 giorni andavo a trovare mia madre e mio padre. Era circa un mese che non andavo. Non mi recavo a… loro vivevano in Rivera Ligura, a Rapallo, perché mio padre era sofferente di cuore, perché automaticamente io li allietavo, come ora in questo periodo ci allieta nostro figlio quando è possibile. e presi questo ombrellone da spiaggia enorme, coloratissimo e approfittando di questa nevicata ci venne la malsana genialità di fare un'azione irriverente ma talmente reattiva di sostenerci e aprendo l'ombrellone da spiaggia, glielo immettevano nell'asse del Napoleone del Canova, nell'atrio dell'Accademia di Brera. Naturalmente chiamarono il presidente, che era Candiani, e ci cacciò, dice fuori i barbari, e ci dettero la sospensione. Io ho finalmente ottenuto il ristoro per poter quindi dedicarmi un attimo a mio padre e mia madre e quindi ottenere questo passepartout che mi dedicasse più alla famiglia e quel momento che non ha l'Accademia. E così sono cose che puoi considerare solo poi dopo questi flash ti vengono inevitabili e sono estremamente piacevoli perché poi peraltro ti ricordi di tante cose che purtroppo sono state, non ritorno più, ma che ti sono servite inevitabilmente a crescere meravigliosamente perché poi ho conosciuto tanti di quegli artisti. L'ho conosciuto Miró, abbiamo conosciuto Picasso con Gigliola. Non so se lei te l'ha detto mai, perché avevamo una lettera, noi frequentavamo a Capri. Quando Capri non costava quello che costa oggi, oggi è proibitivo. Conoscemmo la Lucia Bosse, che era la molly di Dominguez. E noi con questa lettera di presentazione siamo andati a Notre-Dame-de-Vie, a Cap d'Antibes, alla Napul, dove c'aveva la Thierry Picasso, dove viveva Picasso con questi due cani terrificanti che sembrano due cerberi. E ci ha ricevuto il segretario, e poi lui è stato contento della lettera, cosa o meno. Quest'uomo con questi occhi dinamici, cosa o meno. Purtroppo dopo aver letto Picasso l'ha lasciato perché aveva un mal di denti e quindi si era gonfiata la faccia e doveva andare da questo dentista ad Antibes. E quindi ci siamo emozionati da questa presenza incredibile, che non tutti hanno avuto la possibilità. Come ho conosciuto Artung, sempre a Cap d'Antibes, tramite il figlio del suo sapo, Sapone, che aveva una galleria anche a Nizza. E niente, così, tante cose che peraltro nel mio curriculum ho messo, ho avuto la conoscenza anche saltuarie di personaggi come Giacometti, quando siamo andati con Ruggerini, che era un regista che faceva documentari insieme a Dabbiati, che era il proprietario della... come si chiamava... mi scappa il nome... mi scappa il nome... mi scappa il nome... era una... magari te lo potrò... No, no, ok. Io stavo pensando perché non ne facciamo un piccolo volume? Perché non facciamo... non mettiamo per iscritto questa tua esperienza? La parete. La parete da Pino la parete. Da Pino. Siamo andati... Quello che è rimasto a stampa siamo andati, in Egrigioni. Quello che mi rimasto impresso era che quando siamo entrati è caduto un libro e si è sollevato un mare di polvere perché Giacometti era un personaggio magico. Però come Vifredo Lamme, evidentemente. Vifredo Lamme era un altro personaggio che non si lavava mai come Picasso. Si lavava una volta ogni anno e mezzo. Per cui quando siamo andati a Albisola con questo fotografo che era un mio carissimo amico che era Arrigo Carloni che era capo servizio fotografico della Kodak. Noi siamo stati cacciati da De Chirico quando siamo andati nel suo atelier in Piazza di Spagna perché non ci siamo presentati quindi noi siamo dovuti ritornare giù in portineria risalire bussare chiedere permesse eccetera eccetera lui ci ha accolto nella sua era burbero però poi in definitiva era estremamente simpatico e come tutte le persone anziane mettono tenerezza e quindi automaticamente quindi ci siamo e Giacometti c'era mi ricordo che c'era una specie di cesta dove lui faceva questi disegni se non gli interessavano li buttava li cestinava e mi ricordo che Pino la parete ne presse furtivamente tre che poi dopo se li ha stirati e se li ha incorniciati in questa in questo ristorante dove si mangiavano queste polentine che era una cosa eccezionale dove lì c'erano degli artisti tra i quali un mio amico che per me è stato un genio di Nespresso che era Pino Negrisin era di Trieste era uno scultore ma che dipingeva anche faceva queste tombini in rilievo e vinse il premio Parigi lui era un allievo di 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 mascherini e vinse il premio Roma a Parigi un grande personaggio molto assennato di poche parole ma e lì c'era c'era tutto un gruppo di personaggi strani dei pittori della 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 bassa della bassa padana quindi tra i quali Renzo Corbar che insieme a Walter Chiari rubavano nel dopoguerra le ruote delle gomme delle gomme delle macchine praticamente e quindi c'era tutto una cozzaglia simpatica di personaggi e io insieme a un altro mio amico Bassano Belge che aveva un un piccolo spazio dove recuperavano insieme alla mamma dei metalli ma un ragazzo diciamo un amico di grandissima cultura quindi quasi enciclopedica e dove vivevamo come fratelli in quel periodo insomma in cui come anche quando quante volte mi sono trovato essendo in quel periodo ma abbastanza timido nel periodo della dell'accademia prendevo l'ultimo tram che mi portava il 18 che mi portava in via in via Rembrandi poi scendevo e andavo in piazza Siena a casa e c'era una bellissima ragazza che mi fissava allora a quel tempo avevo dei capelli abbastanza folti perché poi li ho persi quando ho iniziato a perdere nel servizio militare e che mi fissava e io dopo due fermate scendevo ma la dovevo fare a piedi da quasi piazza della scala fino a via Rembrandi che era la zona di San Siro quindi arrivavo dopo due ore dopo un'ora e mezza perché poi mi stancavo ero stanco già a quell'ora fino a che un giorno mi decisi a fissarla io e mi passò la timidezza così improvvisamente dico ma per quale motivo io devo tutte le volte che incontro questa persona che mi fissa diventare rosso scendere dalla fermata conseguente e farmela a piedi tutte le notti no e queste sono tanti flash che poi dopo va bene va bene va bene Angelo io ti ringrazio e ti ringrazio infinitamente e se c'è l'occasione riprendiamo perché si capisce ringrazio te perché hai avuto interesse nel farmi dire quello che che sono i miei ricordi che sono le mie sensazioni sensazioni di una persona che ha vissuto certi determinati momenti certe emozioni e che non puoi comunicarle se non a delle persone come te che hanno una grande sensibilità una grande coscienza una grande cultura ottimo professionista psicanalista gastronomo sei un neo Leonardo concettivo e espressivo e quindi devo ringraziare io te di avermi dato questa opportunità insomma ti ringrazio grazie a tutti